Un saluto a tutti da Lanzone Gianluca e da tutto lo staff della Lanzauto. Siamo qui per mostrarvi tutte le nostre fantastiche offerte. Seguite la trasmissione. Allora, siamo sempre qui alla Lanzauto, naturalmente ci conoscete. È inutile che vi raccontiamo cose diverse da quelle che sono le nostre protagonista. Le autovetture. Le nostre Chevrolet sono le vetture fantastiche, sono le migliori che abbiamo in questo momento. Maria, vuoi dire qualcosa sulla... Sì, Trax è una bellissima vettura. Bisogna venire a provarla perché è veramente una macchina affidabile e molto silenziosa. Però volevo dire una cosa importantissima. Il mio era un invito ai telespettatori che ci seguono da casa di venire qua di persona perché abbiamo delle offerte veramente imperdibili. Le macchine sono eccezionali, lo staff pure. Dovete accorrere numerosi perché poi ci sono in serbo per voi grandissime offerte. Non vi potete neanche immaginare cosa abbiamo pensato per voi. Una cosa importante, questa è una vettura che va fortissimo e consuma poco. Consuma poco! Ma poi chi vuole può acquistarla senza un euro di anticipo. Finanziamento totale. E che finanziamenti, signori? 140 cavalli. È un'auto a benzina. Pura potenza. Un'esplosione di potenza. No, 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 scusate, qui non hanno capito assolutamente nulla. Continuo a dire le stesse cose. Signori, una volta che siete qui poi ve le raccontiamo. Ma adesso non abbiamo tempo, dobbiamo fare vedere tante cose. Dobbiamo correre perché abbiamo pochissimo tempo. Il tempo è poco e dobbiamo farle vedere tutte le nostre macchine. Station wagon, trucks. Cruze è questo, è ricco. Vedi che mi fate confondere. Troppe cose. Eh, ma è l'emozione. È l'emozione, hai ragione. Cruze, station wagon, diesel, 1700. Sì, però Ale, Ale, Ale. No, no, aspetta, 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 aspetta un attimo. Ma qui bisogna parlare di prezzi perché altrimenti non vengono. Lo dico io il prezzo, lo dico io. Meno di 18.000 euro. Ma non ci credo neanche se me lo fai vedere. Questa è una vettura che io ho testato con mano. L'ho usata per più di un anno, una vettura uguale a questa, la gemella. Va bene, va bene, va bene. Comunque, la macchina è eccezionale. Cioè, come potete vedere, la macchina è eccezionale. Però sono tante le macchine, appunto, dobbiamo farvele vedere tutte. Abbiamo anche delle vetture usate, come questa, autovetture aziendali. Introvabile. Pezzi unici, fattura con IVA esposta, quindi anche un professionista può scaricare le spese. Sette poste automatica, o no? Sette poste automatica, con telecamera postale di parcheggio. Tutte le stesse cose. Completi di tutto. Non ripetiamo sempre. Ma solo una cosa, volevo dire, che questa vettura è ancora in garanzia fino al giugno 2016. Per cui, una vettura garantita da Chevrolet Italia per tutta Europa. Ricordo il prezzo, 24.900 euro, signori, che prezzo! Sì, naturalmente c'è solo a parte il passaggio di proprietà. E va bene, è poca roba comunque. Sì, e poi, adesso noi abbiamo parlato di Chevrolet e usate. E chilometri zero? Allora, qui, Enrico, da Lanzauto, abbiamo tutto, ok? Tutto, tutto. Abbiamo tutte le migliori marchi, i prezzi migliori, i finanziamenti migliori, lo staff migliore. Sì, ma fai un esempio. Una cosa importante, però. Riusciamo a garantire al cliente, sulle vetture nuove di qualsiasi marchio, tutte le offerte delle case madri. Quindi venite a trovare. È una cosa eccezionale, visitate il sito lanzauto.it, vi facciamo vedere un altro fantastico prodotto, Seat Ibiza, chilometro zero, chilometro zero del 2015, un'auto praticamente nuova. Sì, ha un prezzo eccezionale, signori, compreso il passaggio di proprietà, finita, solo la sicuzione a parte, 11.500 euro. Sì, ma vorrei ricordare che nuova costa 14,7 euro. Bravo, bravo, bravo. Allora, il cliente che viene da noi risparmia. Non c'è nulla da dire. Anche qui, l'opportunità di finanziare tutto l'importo. Ma guardate che macchina, signori, cerchi in lega, fari fendinebbia. Mario, inquadrala bene la macchina, perché è veramente una macchina eccezionale. Però, gentili clienti, oggi c'è, domani non c'è, dovete correre numerosi. È vero, perché noi sono sempre solo e esclusivamente pezzi unici. E poi, un'altra cosa, adesso ci seguirete, perché dopo abbiamo, appunto, in servo per voi, delle grandissime sorprese. Quindi, state seduti sul divano e seguiteci. Comodi. Intanto noi continuiamo a presentarci le nostre vetture. Parliamo, parliamo adesso, perché non parliamo di Fiat, Fiat 500, 500 L, per l'appunto. Sì, ma questa è la motorizzazione che consuma di meno in assoluto. 1.385 cavalli diesel, bicolore, bianco e nero. Cerchi diamantati. Cerchi diamantati neri. Sì, sì, ma è inutile racconti gli accessori. È vero. Il prezzo. Ma no, sai cos'è? Che io sono talmente entusiastico di presentare le nostre vetture. Il prezzo, 18.760, tutto compreso. Ricordiamo che di listino costa 23,7 questa vettura. È una pop star con accessori. E risparmio eccezionale. Con i soldi che risparmiatevi andate a fare un viaggio. Venite da Lanza Auto. Non ne trovate. Non ne trovate. Un'altra chicca, venite a vedere un'altra chicca. Prego, Mario. Questa è quella che a me piace di più in assoluto. È una vettura fantastica. Che macchina è Gianluca? E la Seat Leon, nello specifico è una 1.6 TDI con cambio automatico. Ma è una macchina aziendale? Sì. Certo, è una chilometri zero 2015. Ma questa è del 2030, è troppo futuristica. Fare a LED, 5 porte, cerchi in lega, è una macchina veramente fantastica. Cambio automatico. Ma cosa ne dite di far vedere la vettura sia esternamente che internamente? Mario, Mario, vieni di qua, facciamo vedere bene dentro la macchina, perché i signori si aspettano di vedere una macchina bella da fuori, ma dentro è ancora più bella. Sandro, ciao carissimo. Ciao ragazzi, venite alla Lanza Auto, venite a vedere questa Leon, è fantastica, è la macchina ideale per tutti. Consuma poco? Consuma niente. Il diesel 105 cavalli va ad aria compressa, venite qua alla Lanza Auto. Ma signori, questa è una macchina bellissima, come ho detto prima per l'Ibiza, anche per la Leon vale lo stesso discorso, oggi c'è, domani non c'è. Questa macchina è davvero stupenda. E pensate, un bagagliaio che è... Sì, sì, Sandro, Ale, Ale, sempre così, facciamo vedere qualcun altro che magari capisce qualcosa. Magari uno come Sandro. Uno come Sandro. Fate parlare a me, questa bellissima Seat Leon, ne sto scherzando, dovete venire qui alla Lanza Auto a vedere i nostri prodotti, dovete andare sul nostro sito lanzaauto.it, seguirci in tv, in radio, su Facebook, sul nostro canale YouTube, dappertutto. Siamo attivi perché vogliamo trasmettere il nostro entusiasmo. Lanza Auto è un marchio giovane per persone giovani come te che sei a casa e ci stai guardando. Sandro, passiamo alla parola anche... No, scusa, perché se arrivo io non sono più... No, lui parla un altro tipo di clientela, è una clientela più consona. È saggio. Prende un attimino, me lo sei vero. No, è una clientela un po' più matura, come me e Enrico, siamo un po' più maturi, Maria invece è una via di mezzo ma è giovanile, molto giovane. Io un po' meno. Luca lo lasciamo come ruota di scorta e lui sempre la quinta ruota. Signori, questo lo staff Lanza Auto. Venite, venite dalla Lanza Auto, il nostro sito www.lanzaauto.it. Ma adesso, magari voleva dire qualcosa a Severino? Magari, una parola ogni tanto. Andiamo a vedere altre novità con Enrico, Sandro, Luca e tutto il nostro staff. A dopo. E qui alla Lanza Auto, oltre ai veicoli nuovi che avete visto in precedenza, potete trovare anche diversi veicoli usati, tra cui questa bellissima Smart. Smart, l'autovettura a due posti per eccellenza, l'autovettura da città, che potete trovare sia sul nostro sito www.lanzaauto.it sia presso di noi con dei prezzi molto interessanti. Dalla Smart passiamo a questa bellissima Skoda Fabia Vagon, vettura come nuova, pochissimi chilometri, circa 50-60 mila. Anche questa qua è disponibile sul nostro sito www.lanzaauto.it e in prova presso il nostro autosalone. Proseguiamo sempre con Skoda, abbiamo uno Skoda Yeti, questa vettura è disponibile sia nuova, abbiamo anche dei prodotti chilometro zero usati, con prezzi molto interessanti. Pensate che la Gamma Yeti ha un prezzo di partenza di soli 16.500 euro. Da Skoda passiamo a Citroen, con questa C4 Picasso, vettura, sembra quasi un'astronave, veramente completa, auto da venire e vedere a provare sempre qui alla Lanza Auto, a Trezzano sul Naviglio, oppure sul nostro sito www.lanzaauto.it. Da Citroen ci spostiamo in casa Seat, una bellissima Seat Toledo Berlina, questa ci tengo proprio personalmente a farvi vedere gli interni, perché sono fantastici. Venite pure. Vettura anche qua, 1.6 turbodiesel 105 cavalli, chilometro zero anno 2015. Vettura disponibile sempre anche sul nostro sito www.lanzaauto.it e nel nostro autosalone. Passiamo adesso a Fiat, con questa bellissima 500L, vettura ideale per tutta la famiglia, disponibile in questo caso in allestimento 1.4 benzina. E anche in questo caso voglio farvi vedere gli interni, che sono molto molto curati, molto belli. Vettura che trovate sempre sul nostro sito www.lanzaauto.it. Seguiteci, mi raccomando, anche su Facebook e proseguiamo con le nostre Chevrolet Trax. E dallo sfondo di questa bellissima Chevrolet Trax, disponibile sia in colorazione bianca che in colorazione rossa, passo la parola a Severino Enrico, che vi parleranno dell'officina. Ecco, adesso siamo venuti qui in officina. Sono con Enrico, che vi spiega un po' il nostro post vendita. Dopo aver fatto il vostro ottimo acquisto, siamo in grado di offrirvi tutta l'assistenza necessaria per quanto riguarda la manutenzione, la ordinaria, straordinaria, eventuali riparazioni, meccanica, carrozzeria e anche tutto quello che sono i servizi post vendita, quindi servizio gomme, installazione di accessori, impianti GPL. Tra l'altro, una cosa importantissima, per alcuni tipi di interventi piuttosto costosi come delle riparazioni o installazioni di impianti GPL, potremmo anche utilizzare una formula finanziaria per poter diluire il pagamento. Quindi, vero Severino? Questo è molto interessante. Diamo l'aggivazione ai nostri clienti per una riparazione onerosa e costosa. Potete finanziare la vostra riparazione dai 12 fino ai 60 mesi, pensate, con piccole rate. Ecco, la cosa importante è che qui i nostri tecnici sono tutti tecnici specializzati che seguono corsi di formazione operativa, usano strumentazione ufficiale dalle case costruttrici. Vi faccio un esempio, venite con me, venite. Vi presento adesso uno dei nostri tecnici che non è più un meccanico ma è un meccatronico perché il meccatronico, a differenza del meccanico tradizionale, è il tecnico che conosce l'elettronica e la meccanica in tutti i suoi aspetti, vero Davide? Certo, certamente. Davide è un nostro collaboratore da moltissimi anni. era un ragazzino quando è arrivato da noi, oggi è un uomo sposato con figli grandi che vanno all'università. Davide, vuoi dire qualcosa ai nostri ospiti? Cosa devo dire Enrico? Di quello che vuoi. Sono stato preso un po' in contropiere. Ecco, lui è uno di quei tecnici che mette molta passione quando lavora e quindi siete in buone mani. Questa per me è una garanzia e per voi una sicurezza. Però vi presento un altro nostro collaboratore molto interessante. Venite. È un po' più timido di Davide. È una situazione improvvisa per loro, quindi non lo sapevano. Giuseppe, Giuseppe, vieni per favore. Giuseppe, anche lui è un acquisto più recente rispetto a Davide, che sono quasi 30 anni Davide, mentre Giuseppe sono 15 anni, se non sbaglio. 10. 10, ma 10 anni che valgono moltissimo. Certo, certo. Come ti trovi che la lanza auto? Benissimo. Benissimo. Non hai studiato la cosa? Non hai voluto. È causale e i nostri collaboratori sono molto soddisfatti della società, della lanza auto, della nostra azienda perché è come stare in famiglia. Perché il nostro benessere è loro e il nostro benessere di tutti noi è il vostro. Per cui, più che dire questo, vi aspettiamo numerosi per acquistare la vostra vettura, per ripararla e proseguire insieme il percorso nel tempo, nella vita. Ecco, però vorrei un attimo accompagnare, far vedere anche il magazzino ricambi, perché è importante utilizzare i ricambi originali dei prodotti che vengono gestiti. Quindi, venite con me, vi accompagno da Guido. Qui siamo presso il magazzino, adesso passo la parola a Guido, che è il nostro collaboratore di massima fiducia, anche perché è mio nipote, quindi più di così non si può avere. Guido, vuoi dire qualcosa ai nostri clienti? Sì, abbiamo tutti i ricambi che volete, qualsiasi disponibilità immediata al magazzino che vedete, se dobbiamo ordinare qualcosa, due giorni, un giorno con l'urgenza, Italia, Europa, qualsiasi cosa volete, l'abbiamo. Quindi questo per sfatare un po' il discorso delle disponibilità di ricambi, che molti clienti dicono, ma se poi non c'è il ricambio, cosa faccio della mia auto? La mia auto, e dicono anche che è caro, quindi in realtà lo ricambio originale è meno caro dello non originale. Poi in fase di accettazione vi diamo anche il preventivo, siamo in grado di offrirvi il preventivo per quanto riguarda il costo della riparazione che viene effettuata, quindi senza sorprese e senza perplessità. Una cosa importantissima, qui presso l'Ansauto, presso la nostra officina, che potete prenotare l'auto istitutiva, per cui basta telefonare, prenotare il tagliando, prenotare la vostra riparazione e prenotare l'auto istitutiva, così troverete al vostro arrivo l'auto pronta per andare via, lasciare la vettura da riparare o da fare la manutenzione e andare via con la vostra auto istitutiva senza problemi. Una cosa importante che adesso vorrei invitare Enrico e se ci seguite andiamo a provare una vettura su strada, la nostra Trax Chevolet. Grazie. Vedete che, stiamo facendo la prova su strada, vedete che in caso di manovra nei parcheggi posteriori si illumina la telecamera automaticamente per dare, oltre al sensore di parcheggio, dare la posizione per il parcheggio stesso. Interessante, molto interessante, bella questa vettura. Proviamola, dai, vediamo come reagisce. Eeeh, che partenza. Silenziosa poi Enrico. Poi è notato la posizione di guida alta, che visuale. Bellissima, sembrava essere su una SUV, una piccola SUV ma molto bella. Adesso qui stiamo percorrendo la nostra strada, la nostra cittadina, si partono in seconda insieme, una coppia bellissima questa macchina. Poi c'è uno spunto, guarda, senti? Eeeh, fantastico. Poi la cosa bellissima è che quando arrivi a stop, o semafono, adesso non lo sto facendo perché non abbiamo molto tempo, c'è lo start and stop. Sì, questa vettura, start and stop, permette di consumare molto poco e di avere la macchina spenta nei momenti di traffico, in modo che riduce il consumo e anche la lusità. Ecco, una cosa molto bella è la radio, ha una radio fantastica e questa poi è munita da un sistema multimediale. Mi spieghi cosa vuol dire questo sistema? Sì, è il sistema Mailink, il sistema che viene utilizzato, è stato il primo, Chevrolet è stato il primo produttore a inserire in autovettura questo sistema. Praticamente funziona come un autovettura normale. Ha il bluetooth incorporato, quindi con la possibilità di caricare il collegamento con il telefonino cellulare o con gli smartphone, dove inizialmente puoi avere tutta la rubrica telefonica e verificare le chiamate in uscita, ma poi con delle applicazioni che vengono acquistate e scaricate sulla barricchiatura si può utilizzare molte delle funzioni che sono inserite nello smartphone, ad esempio la navigazione, quindi non hai più bisogno di aggiornare la navigazione con costi molto alti ogni anno, mentre utilizzi quello che hai direttamente sul console. Perfetto, ti fermo, se no andiamo avanti a parlare delle ore. Ma poi anche puoi vedere filmati, hai dentro la presa l'osebina e il cassettino. Ma tu sei bravissimo a spiegare le cose. Noi c'è una cosa importante che i telespettatori vogliono sapere, quanto consuma questa vettura? Pochissimo, se si è attenti alle norme di circolazione previste, superstrade, strade provinciali e autostrada, diciamo che intorno ai 100 all'ora con micrometraggio è una macchina che fa 4 litri per 100 km, quindi riesce a percorrere 25 km al litro. In autostrada a 120-130 all'ora si riesce tranquillamente a fare i 20 km, ma non sono parole, sono fatti, sono vetture utilizzate anche da noi, i nostri clienti soddisfattissimi, chi ha già acquistato può essere solo il nostro testimone, quindi provate a chiedere anche se vi capita a un'altra persona che ha la vettura, come si trova, non potrà parlare che bene. Non metto in dubbio. Ricco, l'ultima, una di tante cose che vorrei sapere. Chi cilindrata è? 1.7 di cilindrata, 130 cavalli. Ha una coppia di 350 Nm che per chi conosce queste tecnologie, la coppia è quella che ti dà la possibilità dei regimi molto bassi di avere una risposta precisa e immediata senza perdite di colpi, come viene in gergo chiamata la situazione, e la macchina ha una risposta molto molto elastica. Quindi questo dà potenza alla vettura, dà accelerazione e consumi abbastanza contenuti. Sai che ho da noto? Che ha una grafica, il cuscotto, bellissima, perché questo contachilometri digitale, questo contagiri tutto illuminato di azzurro, è molto molto bello. Sì, hanno voluto riprendere un po' lo stile motociclistico. In effetti c'è il contagiri analogico e tutta la strumentazione digitale, compreso il computer di bordo. Poi questa vettura ha molte particolarità. Scusa, questo cos'è? Quello è il comando audio che serve per cambiare le stazioni, per aumentare i volumi e per anche iniziare a interrompere le telefonate, le chiamate con bluetooth. Poi abbiamo anche la possibilità, abbiamo a sinistra, abbiamo il limitatore di velocità e il quiz control che imposta invece una velocità impostata senza accelerare la vettura prosegue nella sua marcia. Un'altra cosa importante è il tagging stalli automatici, in caso di pioggia, le luci automatiche, quindi in caso di un ingresso improvviso in galleria si accende automaticamente, specchietti incommandati elettricamente, è una macchina che ha tantissimi tantissimi accessori. Ed è tutto di serie. Bellissimo. Una cosa che ho notato qui che non conosco, un pulsante nuovissimo. Questo pulsante qui cos'è? Quel pulsante è il pulsante per mettere in sicurezza la vettura quando si affronta una discesa. Sì, perché vedo che c'è una vettura che come indicato sta scendendo. Sì, con quel tasto la vettura praticamente prosegue a una velocità costante, controllata di 7 km orari in qualsiasi condizione di pavimentazione, quindi ghiaccio, acqua, ghiaia, quindi una condizione anche difficile, che molte volte si affrontano, perché non dimentichiamo che la macchina si usa solo d'estate. Poi nel SUV, molti clienti anche nella versione 4x4 lo utilizzano in montagna, quindi sono situazioni che si affrontano e si incontrano molto facilmente. Ecco, io so che adesso, mentre proviamo la nostra vettura, questa bellissima Trax, 1.7 turbodiesel, a 130 cavalli, stiamo percorrendo la via Ronaldo da Vinci a Trezzano su Naviglio. Sì. E noto da queste parti che c'è un centro benessere, centro fitness, che in Paris si chiama Ozone, dico bene? Sì, adesso in effetti è una sorpresa che noi volevamo portare ai nostri clienti. C'è una novità appunto. C'è una novità. Adesso siamo arrivati praticamente avanti all'Ozone, se adesso entriamo e ti presento Valentina. Perfetto. Tu ci illustra tutte le offerte che sono state preparate ai nostri clienti. Bellissimo. Eccoci qui arrivati all'Ozone, dove incontriamo adesso Valentina. Ciao Valentina. Buongiorno Enrico, buongiorno Semerina. Valentina, vuoi spiegare ai nostri ospiti quello che abbiamo pensato per loro? Certamente. Ringrazio innanzitutto Lanzauto per aver scelto noi Ozone come fornitore ufficiale di benessere per i suoi clienti. E quello che abbiamo in servo per voi è qualcosa di veramente speciale. Venite di persona a trovare le proposte e le offerte che ci sono per le vostre auto e per voi direttamente da Lanzauto, perché insieme al preventivo riceverete un buono davvero speciale. Vi aspetta una giornata di completo relax, è un Luxury Day Spa. Venite con me che vi spiego di cosa si tratta. Luxury Day Spa è un nuovo programma dedicato al benessere e al relax solistico. Una nostra beauty specialist vi guiderà attraverso una consulenza altamente professionale all'interno della spa, secondo il vostro obiettivo. Tiepidario Sauna Vaschedromassaggio Bagno Turco E docce sensoriali Diventeranno il mezzo con cui raggiungere il vostro obiettivo di relax, drenaggio, detossinazione, tonificazione o snellimento. E una tisana o uno snack personalizzati concluderanno il vostro percorso. Adesso ritornate da Lanzauto e ci rivediamo più tardi qui da Ozzon. Grazie della parola Enrico. Grazie. Abbiamo visto che ve la state spassando di là eh. E qui siamo tornati qui nel nostro showroom a Trezzano sul Naviglio di fianco a questa bellissima Golf Sport Van. Golf Sport Van, un nuovo prodotto di casa Volkswagen. Adesso i nostri gentili telespettatori che ci seguono da casa sempre numerosi si staranno dicendo ma cosa c'entra Lanzauto con Volkswagen? Dicelo te Sandro cosa c'entra. Noi di Lanzauto ci stiamo specializzando nel marchio Volkswagen, stiamo studiando le offerte, le promozioni, i modelli. Dobbiamo sapere tutto per raccontarvi tutto al meglio, vero Ale? Stiamo internando. Sandro. Ma adesso spiegaci in meglio, ma questa fantastica vettura. Ma Alessandro Enrico ci sgrida sempre, noi non dobbiamo parlare in tv delle auto perché le auto vanno viste qui. No, una cosa sola, dovete parlare del prezzo d'attacco di questa vettura. Ah, il prezzo è fantastico. Perché questa vettura parte da 17.900 euro. 17.900 euro signori, prezzo già comprensivo d'IVA. Venite, venite qua. Non basta parlare di macchine. Ma io volevo dire solamente una cosa. Adesso i nostri clienti che ci seguono da casa sono là seduti sulla poltrona, sul divano, sulla chasse long, quello che volete voi. E staranno dicendo, porca miseria, le offerte sono veramente buone. Quasi quasi, prendo la mia vecchia auto e vado a comprare la macchina di avanzauto. Certo, certo. I clienti che vengono qua con la loro vecchia auto, noi gliela supervalutiamo, signori, venite numerosi. Attenzione, attenzione, UP a partire da 8.900 euro. Questo è un prezzo con rottamazione, pensate, UP, 3 o 5 porti, una macchina per la città, consuma pochissimo, va ad aria. Dovete accompagnare i vostri figli, vostra moglie. Disponibile anche metano, eh. Dovete venire a scoprire le vetture alla Lanza Auto. La Lanza Auto e le macchine sono veramente eccezionali. Adesso Luca, una chicca, pensate. Ma Marina, che macchina è questa? Il Maggiolino, eh? È quella che piace a me. A mia sorella è sempre stata innamorata del Maggiolino. Questa è una macchina eccezionale, Luca. Io non trovo più le parole per descrivere i nostri prodotti. È un colore elegantissimo. Cioè, è veramente una cosa... Sandro aveva sempre quella parola là in bocca che diceva, è un ever... Evergreen. Evergreen. Evergreen, evergreen. Pensate. Ma ora, Ale, Ale, diciamo la verità. Dobbiamo passare di nuovo la parola alla Valentina. Io non la volevo dire alla verità, però. Andiamo, torniamo in Ozone. Passiamo alla parola a Valentina. Valentina, cos'altro hai da dirci? L'Anza Auto tiene non solo al benessere delle vostre auto, ma anche e soprattutto al vostro. Per questo ha deciso di includere nel prezzo della vostra automobile anche una settimana di abbonamento all-inclusive proprio qui da noi, da Ozone. Avrete a disposizione i migliori personal trainer, corsi collettivi fantastici e macchinari all'avanguardia per provare un'esperienza di fitness unica. Uno dei nostri personal trainer ti guiderà al raggiungimento dei tuoi obiettivi attraverso una consulenza altamente personalizzata. Qualunque sia il tuo obiettivo, dimagrire, tonificare, divertirti e eliminare i dolori, i nostri trainer metteranno a disposizione tutti i nostri servizi fitness e spa per poterteli far raggiungere. Grazie Valentina per la parola. Certo che Alessandro noi i clienti li coccoliamo proprio tanto. Noi li coccoliamo, noi li amiamo i clienti. Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene. E per farvi vedere quanto vi vogliamo bene, pensate, abbiamo un'altra vettura che vi potrebbe interessare. Volkswagen Polo, gamma a partire da soli 10.900 euro. 10.900 euro, ma cosa comprate signori? Ma cosa comprate? Questa qua è un'auto che se non tutti, quasi tutti hanno avuto nella propria vita. E qui abbiamo automatico, manuale, abbiamo il benzina, il diesel, abbiamo tantissime vetture. Cinque porte, tre porte, climatronic, clima manuale, tutto quello che desiderate qua lo potete trovare. Come sul resto della gamma Volkswagen e come su questa bellissima Volkswagen Tiguan. Vai Alessandro. Eh Tiguan, cosa posso dire? Penso che le riprese dicano tutto. Però dovete venire qua a scoprire dal vivo i prezzi, perché pensate, Tiguan... Gamma a partire da 20.500 euro. Venite qua da Lanza Auto, portate la vostra vecchia auto con 20.500 euro. Noi ve la consegniamo, andate in montagna a sciare con questo fantastico nuovo prodotto che vi fate invidiare da tutti. Ma Mario, ma fammi un favore, ma vieni qua, ma falla vedere dentro questa macchina qua, perché è veramente eccezionale. Io ci metto il mio entusiasmo, io ci metto tutta la mia buona volontà, però bisogna fare vedere anche ai clienti cosa compreranno. Adesso, quella da 20.500 euro non è proprio così, ma è molto simile alla radio, al clima, al servo sterzo, al bracciolo, addirittura ai sensori del parcheggio. Però veramente, dovete venire qua a correre numerosi. Signori, pensate, vetture tutte full optional alla fine. E sappiate che potete anche avere dei finanziamenti con dei tassi veramente egevolati, vero Ale? I finanziamenti, guarda, sono una roba fantastica, veramente, ti fanno venire voglia. Cioè, il finanziamento stesso ti fa venire voglia di fare un altro finanziamento. Venite qua da Lanza Auto, comprate la vostra auto, date la vecchia auto, quella vecchia da Rottamare, perché noi ve la supervalutiamo. Andate via con la macchina nuova, fate il finanziamento. L'avete finita di pagare, non ve ne siete neanche resi conto, signori. Un'offerta imperdibile. Sandro, ti vedo agitato. Sì, 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 dovete venire qui alla Lanza Auto, dovete seguirci su internet all'indirizzo lanzaauto.it. Dovete seguirci su Facebook, diventare nostri amici. Noi vogliamo essere i vostri amici e voi avete bisogno di noi per comprare la vostra nuova auto. Siamo dappertutto, YouTube compreso. E vi ricordo che venendo dalla Lanza Auto e facendo un preventivo per una, qualunque delle nostre fantastiche auto, riceverete un buono speciale. Ma le sorprese non finiscono qua, vero Vale? Holistic Zone è un nuovo concetto di wellness. Dimentica la palestra come la conosci. Immagina un luogo dove poterti allenare in tranquillità, ottenere risultati concreti, divertirti e conoscere tante persone come te. Troverai l'attività adatta a te, nei corsi di gruppo, ai servizi di private fitness, come per esempio Pilates o yoga in volo. Vieni a scoprire gli abbonamenti da Ozon. Con soli 599 euro potrai avere un abbonamento all inclusive fino alle 18 per un anno. Ma se sei cliente Lanza Auto, il tuo anno raddoppia e quindi avrai due anni al prezzo di uno, solo per i clienti Lanza Auto. Con questo io ringrazio Severino e Enrico, vi saluto e vi aspetto qui da Ozon e Lanza Auto.